E' finita a nulla come tutte le cose di questa amministrazione, è finita proprio a nulla ed è una vergogna, una vergogna inaudita perché a febbraio il sindaco aveva preso impegno con me in consiglio che avrebbe attenzionato il problema. Ai primi di giugno gli ho scritto una lettera, anche per segnalare che il cronoprogramma della raccolta non è stato rispettato, quindi la differenziata che doveva partire a marzo ancora si è in aria, siamo addirittura alle lettere per la consegna dei contenitori ai cittadini e nella eterna indecisione sugli orari di conferimento. Io dico che questa è una storia assurda, assurda perché siamo al 15 luglio, l'estate sta finendo come ricordava il ritornello di una vecchia canzone, un altro anno di questa amministrazione se ne va senza risultati e con l'organico dentro, senza il risparmio di 15 mila euro al mese perché io avevo dimostrato carte alle mani, piano finanziario alle mani, che rimodulando il passaggio dell'indifferenziato si sarebbero risparmiati 15 mila euro e si sarebbe garantito il terzo passaggio dell'organico, che in questo periodo, credetemi, è indispensabile per tutte le famiglie. In occasione della conferenza stampa per l'inaugurazione dello specchio Acquio, perché qui questa amministrazione continua a fare conferenze stampa per qualunque cosa, quella almeno era importante, però continua a fare conferenze stampa e annunci. Allora io ho chiesto personalmente rassicurazione, il sindaco mi ha detto sì l'ho firmata, ma le parlo di 15 giorni fa quasi, adesso siamo al 15 luglio, siamo al 13, si legge 15 o 16 se preferisce o 17 se vuole, a questo punto dico l'estate è finita. Diamoci una mossa, diamoci una svegliata, perché per quello che interessa alcuni le cose si fanno anche di notte, peraltro non si fanno e questo mi dà fastidio perché non è corretto. Il rispetto dei cittadini, sempre il rispetto dei cittadini, prima di tutto, i cittadini sono al primo posto e lo devono essere anche per il sindaco perché è stato eletto come me a soffragio popolare.